Antonio Di Rocco, una conferenza stampa dei gruppi consigliari di minoranza questa mattina, soprattutto per parlare di ciò che è successo in Consiglio Comunale nel bilancio qualche giorno fa. Tu hai iniziato dall'imposizione delle tasse. Che cosa è successo? È successo che il sindaco nel suo intervento ha detto che questo bilancio non prevedeva aumenti delle tasse. Ebbene, questo non è vero per due ordini di motivi. Il primo è che la tasse già lo scorso anno è stata messa come imposta massima, quindi il 2,5 per mille. Quindi è già al massimo e non era possibile aumentarla. Per quanto riguarda invece la questione dei rifiuti, nonostante per tanti anni c'era stata raccontata la favola che la società pubblica poteva portare a una diminuzione dei costi e quindi anche delle bollette, quest'anno registriamo, e ve lo abbiamo dimostrato in conferenza stampa, che ci sarà un ulteriore aumento dei costi dei rifiuti e delle bollette. Quindi tutto ciò che è stato detto fino ad oggi non era altro che una bugia. Non solo tasse, soprattutto c'è stata una voce molto forte sul mutuo. Ci sono 2.800.000 euro per le opere pubbliche, di cui voi chiedevate una caserma o comunque altre soluzioni. A cosa serviranno? Cosa ne farà l'amministrazione comunale di questi quasi 3 milioni di euro? Beh, vorrei dire innanzitutto che noi ci siamo presentati in consiglio comunale con delle proposte, che erano delle proposte costruttive e non delle proposte solo di opposizione. Il Comune di Forme aveva una grande opportunità, quella di avere il possibile adibuto per 2.800.000 euro. Il bilancio si costruisce in base a quelle che sono le esigenze di una città. Per noi le esigenze erano delle altre. Per noi l'esigenza numero uno era quella sulla costruzione di una caserma dei Carabinieri, che tra altre cose il sindaco aveva promosso. Noi avevamo altre esigenze che erano quelle che poi sono di tutti i cittadini formiani per quanto riguarda la sicurezza stradale. Continuiamo a piangere morti sulle nostre state. Noi avevamo proposto altre soluzioni, quale anche quella della sicurezza per degli impianti di videosorveglianza, visto che ormai i cittadini non si sentono più sicuro. Abbiamo fatto ben 22 proposte tutte costruttive e questa amministrazione sorda ha deciso di non accettarne neanche una. Noi siamo comunque fieri del lavoro fatto e continueremo a farlo anche se in opposizione.